Resumen di Siman di Ministerio di Assunto in General, Organizzazione Governamentale, Infrastruttura e Planificazione Territoriale. La Commissione di San Nicolò lo traga duro per raggiungere una soluzione per questo progetto. Tambi, sta infirtiendo del embellecimento di diverse aree in San Nicolò, incluyendo Baby Beach e Rogers Beach. Ci erano insieme durante la conferenza ministerial di OCTA in Brussela, il primo ministro Eifelin Weyfer-Cruz ha fatto una offera della presidenza di OCTA del ministro di Relazione Exteriore di Grunland, Vivian Motsfeld. Il primo ministro ha indicato che la decisione ha seguito un reto nuovo, che, junto con il ministro plenipotenciario e representante di Aruba nella Unione Europea, il signor Adi Tyson, lo ha di ejecutare del benestar di Aruba e tur miembro della associazione. Come presidente di OCTA, il primo ministro lo traga nella facilità e processo per Aruba e turre otro paese nella città miembro della associazione per arrivare a fondo fuori della Unione Europea va assina per ejecutare proiecto non importante. Recentemente, in Brussela, il primo ministro Eifelin Weyfer-Cruz stava presenti nel forum della Commission Europea, con la Commission che ha fatto una decisione di rifare a fondo che aguarda alocare il paese nella città miembro della OCTA. Il primo ministro, come presidente della associazione, ha fatto la parola del nombre di 13 paese che stanno crescendo delante di quale deseo non di cada paese. A base di esacchi, allogra llegano un accordo finanziario per anni a benidero di un summa di 15 milioni di euro con l'agordo dei partiti uguali nel gestire paese sumando assina un summa di 1.5 milioni di euro per cada paese. Il primo ministro ha indicato che il compromesso di traggere duro per Aruba si chiama la remarca per fondo nella Unione Europea e per essere il processo di applicazione per fondo più facile per il gestire paese con il miembro della OCTA. Durante il riunione anche, il ministro Geoffrey Weaver come è ufficiale autorizzato a Aruba per la firma a firma e accordo riba e-government. Il progetto di e-government sta un progetto con il gabinete Weaver Cruz junto con il team di futura e il team di innovazione che ha un tempo che ha traggato riba già di quale entregare un plan nella Unione Europea. Danki nel plan anche, Aruba allogra il accordo finanziario di 4.2 milioni di euro per finalizzare il progetto di digitalizzazione di e-processo di e-departamento di e-government. Si man passà e promè Bebel nel nostro idioma papiamento di un'ortografia oficiale di Aruba augurdo presentato nel promè minister Eveline Weaver Cruz. Nel momento di ricevere Bebel è mandatario a expressare che si sente un orgoglio grande con la word in Bebel del nostro due idioma papiamento. Il logro Aki da danno che nel hop e anni di lavoro di Sociedà di Bebel traduttore e varie altre persone di Aruba, Corso, Rolanda e Argentina. Recientemente, il governo di Aruba junto con Futura e CETAR ha organizato il promè STEM Ex-Youth Summit. Il seminario Aki ha guardato organizato specialmente per i joveni di entre 24 e 18 anni di il terreno di STEM per la scienza, tecnologia, ingenieria e matemattica. Il promè minister Eveline Weaver Cruz ha expressato che è molto satisfeita di portare l'interesse grande di parte di nostri joveni per attendere il seminario Aki. Tambi è mandatario a expressare il seminario che ha assinato il hobby importante per l'educazione di nostri joveni. N'è un'altra opportunità di ascoltare le parole di inspirativo e di parte di un differente workshop per assinare un'idea di quale è un'area che ha più interesse per seguire. Il governo di Aruba è il hobby importante per l'educazione e preparare i joveni Aki per il futuro per il mercato laborale è successivamente. Te otro siman pon otro resumen di siman.